L'impressione è comunque un'ottima impressione, il gruppo c'è, sono tanti bravi ragazzi e soprattutto bravi calciatori. La città è carina, non c'ero mai stata a Chiavari, mi piace, c'è il mare, qui sicuramente si sta bene. Conoscevi qualcuno dei ragazzi del mister Boscaglia? No, conoscevo solo Marco Grimi, sì perché non abbiamo giocato insieme ma l'ho conosciuto tramite un altro amico che abbiamo in comune e lo conosco da tempo. Tante stagioni da protagonista in Serie C, cosa porti qui a Chiavari, che tipo di difensore sei? Sicuramente mi piace spingere molto, la mia caratteristica è quella, però diciamo che non devo portare niente, già c'è tanta gente di esperienza dentro lo spogliatoio e seguiremo chi sicuramente ha più esperienza di noi e cercheremo sicuramente di dare il meglio per poter magari riuscire a vincere. Domenica si prosegue l'avventura in Coppa Italia, che partita sarà contro la Salernità? Sicuramente la Salernità è una buona squadra, costruita bene e sicuramente arriverà ai play-off in Serie B perché hanno fatto un buon mercato. Noi ce la metteremo tutta sperando di vincere, so che se si vince si va a Genova e quindi sicuramente ce la metteremo tutta per vincere questa partita. Grazie. 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 Grazie.